Forza Italia torna a contestare aspramente il piano sanitario della Giunta d'Alfonso. Il consigliere Lorenzo Sospiri questa mattina in conferenza stampa ribadito che rischierebbero il declassamento diverse strutture della Valle Peligna, del Pescarese e anche della provincia di Chieti. Sul Mona e Castel di Sangro verranno declassate da ospedali a poco più che ambulatori. La provincia di Pescara resterà con un solo ospedale di primo livello con popoli e penne declassati o semi chiusi. In provincia di Chieti tutte le aree, a parte Chieti, Lanciano e Vasto, tutte le aree della provincia di Chieti saranno fortemente penalizzate. Pensiamo in particolare a Ortona. Il tutto per cosa? Per una riduzione di tasse? Per un aumento dei servizi o della qualità delle nostre strutture ospedaliere? No, le tasse resteranno sempre quelle aumentate, benché siamo in pareggio di bilancio. Dal commissariamento non usciamo perché sono dei pasticcioni incapaci ed in più otteniamo invece dei servizi in meno, che colpiscono soprattutto le aree interne. Ora, questo è inaccettabile. Ad oggi, sul pagamento e il rimborso dei ticket sociosanitari, che vuol dire non far pagare a persone che stanno soffrendo, che stanno facendo una riabilitazione, una ignobile tassa, su 10 milioni e 800 mila euro stanziati, grazie alle nostre battaglie, la regione Abruzzo ha pagato solo 286 mila euro. Io domando a qualsiasi cittadino della nostra regione come fa una struttura privata che ospita, che dà prestazioni, che paga stipendi ad operatori a sopravvivere quando la regione Abruzzo da un anno non paga il dovuto. Forza Italia intende contrastare in ogni modo, fin quando ce ne sarà la possibilità, questo progetto a capo chino nei confronti di leggi del governo Renzi che vogliono distruggere la rete sanitaria della nostra regione, che è una regione che ha già fatto tanti sacrifici.